Guardare il crocifisso per salvarci dalla tentazione della mondanità, fare un esame di coscienza e compiere opere di carità, quelli che costano, per essere più attenti e vigili. Così Papa Francesco, nell'Omelia della Messa a Casa Santa Marta, commentando il brano di Luca sui demoni cacciati da Gesù. Demoni è evidenziato che lentamente entrano nella nostra vita, seducendo, cambiando i nostri criteri, mimetizzandosi nel nostro modo di agire, portandoci alla mondanità e quindi lontani dal servizio di Dio, rendendoci cristiani tiepidi. L'invito del Papa è stato quello di vigilare, di spezzare il gioco dei demoni, rivolgendo lo sguardo a Cristo. Vigilare significa capire cosa passa nel mio cuore. Significa fermarmi un po' e esaminare la mia vita. Sono cristiano, educo più o meno bene i miei figli, ma la mia vita è cristiana o è mondana? E come posso capire questo? La stessa ricetta di Paolo, guardare Cristo crocifisso. La mondanità soltanto si capisce dove è e si distrugge davanti alla croce del Signore. E questo è lo scopo del crocifisso davanti a noi. Non è un'ornamentazione. È proprio quello che ci salva di questi incantamenti, di queste seduzioni che ti portano alla mondanità.